Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a Saccaia Rose. Questa è una nuova rubrica che ho appunto ideato, in cui appunto parlare con gli altri youtuber italiani che portano contenuti a tema in Azuma Eleven per scambiare con loro quattro chiacchiere e qualche opinione. Allora, come vedete, il primo ospite di questa rubrica è Rising Kirion, prima Rising Legend, per me è solo Rising, perché... È più facile, Rising Aldo, come volete. È più facile. Oppure anche Giorgio, se preferisco. Anche Giorgio, o Gianni, è un nome comune di persona per me, Gianni. Sì, questa è maschile. Ok, ok, perfetto. E vabbè, come appunto potrete immaginare, il nome della rubrica è un tributo a una delle frasi più celebre di Azuma Eleven. Raudi e Benji. No, forse Raudi e Benji in effetti. Erano benni. Io me la ricordo, tipo all'inizio, puntata 3, al minuto 9.26. Ma che memoria c'hai? Sì, 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 puntata 3, sì, 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 era Raudi e Benji. Vabbè, piccola gaffa, poi tagliamo in post-produzione. Sì, 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 esatto, sì, si taglia tutto. E niente, in realtà l'idea dietro a questa rubrica me l'ha fatta venire proprio Rising, nel senso che lui ha fatto recentemente un video che, vabbè, lascerò ovviamente il link in descrizione, quindi se non l'avete visto andatelo a vedere e ovviamente iscrivetevi al suo canale per seguire altri contenuti a tema Inazuma, ha fatto recentemente un video su la storia di Inazuma Eleven su YouTube Italia. e questo mi ha dato una buona idea, nel senso, un'idea del... mi è piaciuto molto il suo video, molto ironico, molto carino, e mi ha dato appunto questa idea di Inazuma Eleven ci insegna che il gioco di squadra è importantissimo, è quello che ci permette di superare degli ostacoli che da soli sarebbero insormontabili. E quindi mi son detto, ma c'è un sacco di gente, un sacco appunto di YouTuber in Italia. Sicuro più di tre. Come me, come Alba, esatto, esatto. Già io e te siamo due. Esatto. Corrad, siamo a tre, vedi, già sono tre. Corrad, Blaster, ce n'è, ce n'è. Poi tra l'altro, il video della storia di... vabbè, è sempre, mi è venuto in mente, sempre sul filone della serie principale del canale, cioè la storia di personaggio. Esatto. Ma si è sviluppata man mano che scrivevo il copione, questa è la cosa particolare, perché ero partito con Blast, perché infatti si vede, con Blast ero molto molto tranquillo, cioè non ho detto tante stronzate, ho detto che ne so, Blast con la sua delicatezza, mentre si strappava la maglietta. Però più di quello, ma più vai avanti nel video, più dico stronzate, massa a carica, a profusione, perché proprio mentre scrivevo ho detto, vabbè, la faccio, la mando in cacciara. Quanto pare è stata la scelta vincente, è piaciuto, ho visto pure... Cioè, l'hanno visto tutti, praticamente, quelli che dovevano vederlo, insomma, quello a cui era indirizzato. E una cosa particolare è che noi esseri umani, talvolta, facciamo anche la tosse. E io adesso la faccio. Ecco, mi sono schiarito la voce, perché si era scurita. E con questa, e con questa perla, possiamo assolutamente andare avanti. E quindi questo, noi in realtà, ovviamente, appunto, non abbiamo preparato niente di che, niente di speciali di cui parlare, appunto. In realtà è anche la prima volta che ci vediamo, effettivamente parliamo così apertamente. Quindi è anche un'occasione, secondo me, proprio per scambiare due chiacchiere sincere sul nostro lavoro, su Inazuma, su quello che vogliamo. Passare cinque minuti in compagnia. Lavoro, poi. Lavoro? Due conosissimi euro, da quando ho messo la partner. Lordi. Anzi, due euro e quindici centesimi. Ti capisco, guarda, ti capisco, perché... Sono tanti senza fare un cazzo, eh, due euro e... Beh, diciamo, senza fare niente non proprio, perché comunque ci vuole tempo, impegno, anche, cioè, ci devi mettere del tuo per fare... Sai che è venuto il periodo d'oro che pubblicavo un video a settimana, quando proprio mi ero messo là, ho detto, faccio una storia di a settimana, e ha portato i suoi frutti. Se vai a vedere, penso che non ci sia una... Forse solo gli ultimi, gli ultimi episodi, ma quelli di quando lo facevo una volta a settimana stanno tutti sopra le due, tre K. E si vede il lavoro che c'era. Esatto, esatto. Poi, tra l'altro, parlando sempre di Idenazuma, questa serie, la ideae, poi ideae prendendo anche spunto inconsciamente, perché io seguivo Mike, di Fifth Sector, che saluto, che faceva, mi ricordo, un episodio, che era la storia di Caleb. Però io, quando ho iniziato a fare questa serie, non mi era venuto in mente a dire, ora prendo spunto da quella serie. Mi era venuta questa idea, e poi ho pensato, giusto, l'ha fatto anche Mike. E infatti poi nel video, nella descrizione, l'ho citato, nel primo episodio. E da lì, l'estate del 2020, il periodo che uscì Valorant, tra l'altro i drop su Twitch, lo droppai, giocavo a Valorant, e nel frattempo, mi veniva in mente questa serie, e iniziai proprio, ho detto, non voglio fare, infatti, tutt'oggi, fino a pochi giorni fa, non avevo fatto nessun personaggio, cioè nessun protagonista. Adesso ho fatto Arion, in occasione della collaborazione, con Taylor of the Toaster, che era, cioè, la cosa internazionale. Però, iniziai con Axel, che, non è il protagonista, che non è il protagonista, però, stiamo là, andò bene, non mi ricordo, onestamente, come, cosa pensai, però, ho iniziato a invitare a tutti, qualsiasi persona, nel mondo di, in a Zoom Eleven, a fare questa, questi video, e alla fine, sono venuti praticamente tutti, mancano solo Blast, che però, è proprio lui, che me lo disse, vabbè, io e Blast, ci conosciamo da, 4-5 anni, come con Corrado, però Blast, mi disse, che lui non fa, molte collaborazioni, ai tempi, poi non so, se avrà cambiato idea, e quindi, non mi disse di no, e poi, il caro Diegub, che però, non mi ricordo, se l'ho invitato, forse l'ho invitato, però cancellai il messaggio, perché era, cioè, pensavo, fosse ancora troppo presto, e quindi sì, in a Zoom, ma poi vedi, quella era una serie, che, è venuta da sé, non che fosse uscito qualcosa di su, adesso ci faccio una serie, erano cose, che tu devi riciclare, infatti, in a Zoom, per andare avanti su YouTube, secondo me, bisogna riciclare, noi in questo momento, cosa stiamo facendo, stiamo parlando, di in a Zoom, non perché sia uscito qualcosa, non stiamo parlando di notizie, perché, ma no, se aspettiamo le notizie, o piangiamo, oppure stiamo zitti, per qualche anno, se aspettiamo le notizie, moriamo, ci facciamo, dei nipoti, avremo dei nipoti, la prima volta che si fanno, trovati, tu invece, Luca, come hai fatto a esordire, tu, se non sbaglio, all'inizio, c'avevi, c'avevi video sullo Strikers, proprio sulle partite, così, registravi la partita, e sono andati fortissimo, io non ho ancora capito perché, sinceramente, eh, credo di riuscire a spiegartelo, in realtà, inizialmente, non me lo sono, non me lo sono spiegato neanch'io, però, appunto, io, ai tempi, quando ho aperto il canale, io ce l'ho da tantissimo, poi, è vero che, negli ultimi due anni, in realtà, ho iniziato, realmente, a, a investirci tempo, passione, perché, appunto, prima, quando l'ho aperto, nel 2011, cioè, parliamo di dieci anni fa, esatti, quando ho aperto il canale, in realtà, l'ho aperto, perché, appunto, era appena uscito, Strikers in giapponese, era uscito solo in giapponese, e non si sapeva, se avrebbe raggiunto il nostro mercato, e, io, appunto, l'avevo, l'avevo, appunto, provato, mi era piaciuto, e, smanettando, un po', con le mie competenze informatiche, sa il cavolo, il resto, ero riuscito a, ehm, tradurre, in qualche modo, ma più che tradurre, modificare, diciamo, all'interno del, del gioco, l'audio, cominciando a, a inserire, al posto degli audio in giapponese, quelli in italiano. Poi dopo raccontiamo anche questa storiella, che ci lega, del passato, dopo la racconto. Ok, ok, e, in realtà, niente, quindi, io ho sempre visto YouTube, purtroppo, ho visto sempre YouTube, come un posto, in cui, io, come persona, avevo bisogno di portare, dei contenuti, realmente di valore, se no, non aveva senso, cioè, io sono sempre stato una persona, di questo tipo, e quindi, in realtà, ehm, non volevo appunto, fare il content creator, inteso come, appunto, una persona, che dice la sua, o porta anche guide, cioè, non mi interessava, io volevo appunto, un contenuto unico, e quindi, l'unico motivo per cui ho aperto il canale, era perché ho detto, secondo me, cioè, questo gioco qui, che è tipo un, un FIFA, all'Anazuma Eleven, può piacere anche ad altri, e dato che, secondo me, è una bella idea, mettere l'audio in italiano, con le voci dei protagonisti, mentre fanno le tecniche, magari può piacere a qualcun altro, e quindi ho aperto il canale, e poi in realtà l'ho abbandonato lì, nel senso che dopo, dopo un po' di, di tante, tante traduzioni, tanti aggiornamenti, eccetera, effettivamente Level 5 ha annunciato, che il gioco sarebbe arrivato anche, anche da noi, e quindi non aveva più senso portare avanti, una, una traduzione da solo, così lunga, così complicata, se tanto il gioco sarebbe arrivato anche in Italia, e quindi ho smesso, e un po' abbandonato il canale, e il resto, appunto, più o meno lo sai, poi ho ripreso i lavori con, con Strikers, e adesso, si va. Si va dritti, e a proposito dello Strikers, c'è un piccolo aneddoto, che non so se si ricordi, quando non ero ancora a Rising Legend, o comunque quando ancora non facevo contenuti, era il 2019, nel 2019, ben sei anni fa, quindi, Luca stava facendo il progetto dello Strikers, in italiano, il 2013, insomma, Strikers 2013, non mi ricordo come, forse, si, feci un video, non mi ricordo, che cercavi voci, o cose così, e io mi proposi, nei commenti, dissi guarda così, ci mettevo d'accordo, e gli inviai tutti, degli audio cringissimi, ma neanche così tanto, mamma mia che brutti, così, veramente non li voglio più sentire, te li rimando tutti, di voci, guardate qua, quanti ne erano, chat private con Luca, non mi correlare, guarda quanti ne erano, vai tranquillo, vai tranquillo, perché si spegne il monitor, ok, ecco, quanti bei, vocali, madonna mia, ok, che erano delle voci, di un personaggio, che io non sapevo, chi fosse, perché non, non si sapeva ancora, alla fine, vabbè, ci siamo persi di vista, di scrittura, diciamo, poi pandemie varie, non hanno aiutato, e, alla fine, il mistero, rimane ancora oggi, chissà, chi dovevo interpretare, quei lontani, sei anni fa, quei lontani, sei anni fa, che a me sembrano, più un anno e mezzo, ma sarà, che io, sono percezioni, sono percezioni, a me se me ne hanno passati, sette, otto anni, anche se ne sono passati, solo sei, ma, è vero, a volte uno, è come lo vede il mondo, perché poi lo Strikers, lo dicemo anche in live, da Nintu, con Bjorn e Diegub, che, non è che, cioè, addio, a me piace, ok, però ad esempio, a Diego ho fatto, un video simpatico, tipo, a Diegub, non piace una Zoom Eleven Strikers, che fa vedere, proprio lui, che non gli piace, non gli piace, però, giustamente, non, non c'è una storia di fondo, sono delle partite, come se fossero, delle amichevoli, però, per perdere tempo, ce ne ho perso, di tempo, qualche storia, infatti, è abbastanza carino, sì, esatto, si fa giocare, e proprio per il fatto, che non aveva una trama, o comunque, cioè, che il full core al gameplay, la cosa, che per me era fondamentale, che avrebbe portato, una buona traduzione, era sentire le voci, dei personaggi, mentre giocavano, mentre facevano le tecniche, perché tanto, una volta imparati i comandi, non è che era, così importante, andare a seguire, per filo e per segno, ogni, ogni singolo menu, e quindi, era così, e la mia invece domanda è, molto banale, in realtà, però appunto, non avendo mai fatto, una conversazione, così con te, voglio sapere la tua risposta, qual è la serie, che hai preferito, di Nazuma Eleven? gioco o anime? Allora, direi gioco, direi gioco, io sono più per la, per la, controparte originale, Crono Stones, il meglio riuscito, secondo me, da level 5, 200 e passa ore, Miximax, Spiriti Guerrieri, Fusioni, Kamehameha, era pieno, era, era ricco, diciamo, il gioco, era il più ricco, a parte il Galaxy, che poi, è stata fatta una patch, però, se fosse uscito il Galaxy, forse ti avrei risposto Galaxy, ma neanche, non lo so, perché, il Crono Stones, sai, viaggi nel tempo, la storia, mi affascina, poi ho scoperto cose, della storia giapponese, che non conosci, quindi sì, quello è il mio gioco preferito, a livello di anime, invece, il Go, mi piace, però, tipo, il Go, non mi convince, però me lo dovrei rivedere, mentre il Crono Stones, e il Galaxy, mi piacciono, il Galaxy, ho fatto anche il video, su Fertilia, che mi colpì, quella storia, di Fertilia, è una delle cose, che mi è rimasta più impressa, impressa, o impresse, non lo so, mentre, vabbè, diceva, un valore affettivo, c'è la prima stagione, ma purtroppo è la prima prima, però ormai la sua memoria, quindi, adesso ti giro la domanda. Ah, giustamente, allora, io, posso darti una risposta, ma, non posso darti una risposta, completa, perché io, purtroppo, adesso ti dirò, che, la mia conoscenza, profonda, di Nazuma Eleven, si ferma, alla prima stagione di Go, quindi, sembra strano, ma io non conosco, la storia, che va, dalla fine di Go, in avanti, quindi, come Corrado, Corrado, il Galaxy, non l'ha mai visto, e comunque, Crono Stones, non se ne intende. Esatto, io, né Crono Stones, né Galaxy, non li conosco, quindi, in realtà, posso darti una risposta, solo parziale, perché, appunto, la storia di Go, se la possiamo definire, una trilogia, come la prima trilogia, di Mark, e della prima Raymond, in realtà, ne conosco solo uno, quindi, ancora Crono Stones, né Galaxy, li ho giocati, né li ho visti, e, tra l'altro, appunto, mi stavo settando, un po', con il profilo di Twitch, che non ho mai aperto, l'ho aperto recentemente, perché volevo portare, Crono Stones in live, e, a breve, spero di farcela, così, appunto, da giocarci, insieme a chi vorrà tenermi in compagnia, con, magari, appunto, consigli, di chi, magari, come te, ci ha spolpato, dentro 200 ore, mentre io, non so neanche, quasi come si gioca, ormai. Attenzione, io sono un giocatore, molto occasionale, quindi, competitivo, oggetti, mai usati, quelli che avevo, quelli che usavo, uno che sta proprio infognato, è Etern, che è, sì, competitivo, dei Rishy Boys, ma io, zero, io gioco proprio per divertirmi, per passare il tempo. Sì, 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 no, quello, normalmente, anch'io, però, appunto, dato che io sono, proprio, una pagina bianca, rispetto a Crono Stones, accetterò, comunque, tutti i consigli, che, che magari, arriveranno, sia da chi, la prende più casual, sia chi, dice, no, prima di fare questa cosa, vai qui, prendi questo giocatore. Ma io, cose assurde, che non capisco come facciano, molti, anche Bjorn, si ricordano i risultati, delle partite. Adesso, se io ti dovessi dire, com'è finita, Raymond Shuriken? Non ne ho idea. Capisce? e tu hai detto che hai una conoscenza, cioè, la tua conoscenza profonda di Nazuma, si ferma alle prime serie. Esatto. Io, che non ho una conoscenza profonda, neanch'io lo so, ma Bjorn, Bjorn sa tutte le capitali del mondo a memoria, però, pure degli stati minori, non sia mai, ma Bjorn si ricorda le partite a memoria, tipo, no, prima fecero 3 a 1, poi 3 a 2, poi 3 a 3, e al novantesimo hanno fatto il 4 a 3, e ha vinto la Raymond con una rovesciata micidiale di Victor, ma si ricorda tutte queste cose, quello io non ho mai capito come fa, però glielo chiederai quando verrà. Assolutamente sì. Quando viene, quando poi lo inviti, digliela questa cosa, ha detto Rising, che devi esplodere, così gli devi dire, è un nome in codice, è un nome in codice. L'uscirà? Sì, sì, sì. Va bene. Glielo dirò, assolutamente non mancherò. Grazie mille Luca. E ma di che? Grazie a te. E quindi io ti posso dire che per la mia, quella che è la mia, la mia conoscenza fino alla serie Go, io non ho apprezzato tantissimo la serie Go, ma magari mi farà cambiare idea appunto con Cronostons e con Galaxy. La prima serie non l'ho trovata così, non lo so, soprattutto vabbè, io appunto come per le partite, per i risultati delle partite, io sono una persona che tiene in memoria e tiene molto a cuore la storia, l'evoluzione dei personaggi, diciamo che quello che sono appunto i risultati o magari, cioè nel senso, le cose più oggettive, così non appunto me le dimentico in fretta, mentre invece sono uno che tiene molto a la progressione, la narrativa, eccetera, che mi è mancata un pochino nella prima stagione di Go, cioè nel senso, ho capito quello che è successo, tutto il resto, bene, bello. Però non lo so, ho trovato nella prima trilogia di Mark, soprattutto il secondo, a me è piaciuto, è piaciuto parecchio, perché vabbè, Sì, è la mia preferita delle tre. È spuntato Sean, che è il mio personaggio preferito di sempre, di Nazuma Eleven. Niente, basta, allora io direi che, che niente, io come ho detto già poco fa, ti ringrazio per aver, per avermi tenuto compagnia, per aver fatto questa chiacchierata, che poi, è partita da Nazuma, ma giustamente quando, quando si chiacchiera, senza una caletta, esatto, cioè senza un così, improvvisando, vengono fuori nuovi argomenti, nuove passioni, nuove cose da condividere, quindi, se poi appunto vorremmo fare qualcosa, solo a tema Nazuma, discutere un determinato argomento, un determinato personale, eh, lo faremo. Va bene ragazzi, allora niente, io vi invito comunque a, seguire, eh, Rising Kirion, quindi iscrivetevi al suo canale, eh, guardate i suoi contenuti, che se vi piace Nazuma, comunque è un canale fatto per voi, come il mio, come quello di, di tanti altri, eh, se appunto volete qualche contenuto, che abbia, anche un po' di, di umorismo, non avete secondo me, canale migliore, se non quello di Rising, quindi, andate a seguirlo, continuate a seguire, il mio canale, per aggiornamenti su Strikers, per altre puntate di Saccaia Rose, per nuovi contenuti, sempre a tema in Azuma, e, e che altro dire? Va bene, noi ci vediamo alla prossima puntata, fatemi sempre sapere nei commenti, cosa ne pensate, se, se vorreste appunto, mi piacciono queste chiacchierate così, volete, che ne so, magari argomenti più specifici, più lunghi, più corti, con gente più bella, più brutta, fate quello che volete. Bella di più dubito, però vabbè. Esatto, quindi, su quello non commentate. Ecco. Va bene, grazie a tutti, e alla prossima. Ciao. Ciao.